72 mila euro per riqualificare i parchi nei quartieri di Fano. È questa la cifra investita dal comune per sistemare i giochi e gli arredi prima in via del fiume a San Lazzaro e a Fano 2 e poi nei giorni scorsi sul lungomare di Sassonia e a Fenile in via Coppi. Dopo le tante richieste arrivate all'amministrazione e le segnalazioni inviate a Fano TV, finalmente le famiglie e bambini potranno tornare a divertirsi in tutta sicurezza. Per quanto riguarda Fenile e San Lazzaro abbiamo rimosso i vecchi giochi perché ormai usurati comunque non più rispondenti alle normative vigenti e abbiamo quindi messo nuove strutture in alluminio e quindi più durevoli nel tempo che richiedono meno manutenzione rispetto al vecchio legno che si utilizzava prima e anche a Fano 2 abbiamo adibito una nuova area sempre lo stesso con strutture ludiche e altalene e giochi a molla e a breve anche lì interveremo posizionando due porte da calcetto spero ecco nel giro di un mesetto di finire questo lavoro. Invece per quanto riguarda l'area in Sassonia sono stati rimossi nella piattaforma che c'era prima esistente dei gazebi che ormai erano fattiscenti e quindi anche pericolosi. Siamo andati ad installare una pavimentazione antitrauma con una struttura ludica, una nave proprio perché siamo in zona balneare. E questa pavimentazione è detta alveolare, viene utilizzata soprattutto nel nord Italia e ha la particolarità che al suo interno potrà crescere spontaneamente l'erba quindi oltre a rispondere alle esigenze normative è stata pensata anche per motivi estetici. Sì perché i piccoli parchi di quartiere sono molto importanti, sono molto importanti prima di tutto per il decoro della città e quindi l'investimento che abbiamo fatto è un investimento che va verso questa direzione, riqualificare parti e angoli anche piccoli del nostro territorio e poi c'è una questione sociale perché sono parchi frequentati dai bambini, poi i bambini portano i genitori, i nonni e quindi creiamo degli spazi dove poter socializzare. È chiaro che chiediamo ai cittadini di trattare con cura quanto il Comune con sforzo anche economico è riuscito a fare e i soldi vengono alle tasse dei cittadini, quindi trattare bene queste nuove installazioni, segnalarci le cose che non vanno bene, segnalare anche e redarguire anche chi usa impropriamente questi spazi. È un percorso lungo, non è finito perché vogliamo investire, continuare a investire ancora, tant'è vero che abbiamo una gara in corso per coprire quegli spazi dove non siamo arrivati con questo appalto e quindi diciamo a fine legislatura dovremmo, vorremmo avere l'ambizione di aver coperto più o meno tutte le aree della nostra città.